Allora, buongiorno a tutti e benvenuti alla calata di Sant'Antonio Allora, quest'anno abbiamo ripristinato la solita messa Allora, parte l'amministrazione comunale con 1.002 1.002 1.003 1.002 1.002 1.001 L'amministrazione quando? L'amministrazione comunale 2.005 2.005 e 1.002 1.005 e 1.001 3.003 1.001 3.001 aiutate sto ragionando se non riesco a stati dietro con le mani 3.500 e 1 3.500 e 1 3.500 e 1 3.600 e 1 3.800 e 1 signor Sintra da quanto andiamo? 4.000 e 1 abbiamo un grigio con Sant'Anno il grigio è molto generoso Gerdì, quanto? 4.500 e 1 4.500 e 1 Fabio a quanto? ah, ci stava pensato no, noi abbiamo mangiato e 2 4.500 e 1 4.500 e 1 4.500 e 1 4, 7, 1 4, 5, 2 4, 7, 51 4, 7, 2 4, 8, 1 4, 8, 1 1, 2, 4 5, 1 5, 1 5, 1 5, 5, 5, 1 5, 5, 5, 1 5, 5, 2 6, 1 6, 1 6, 2 7, 3 7, 3 8, 1 8, 1 8, 1 8, 1 8, 1 8, 1 8, 1 8, 1 8, 1 8, 2 9, 7, 8 11 16 Grazie.